Quest'anno torna finalmente dopo cinque anni la sesta edizione del Festival della Ruralità, un festival completamente rinnovato anche nel logo, abbiamo cambiato logo, il logo che rappresenta il festival è quello dello Iazzo che è l'architettura rurale più rappresentativa. Tre giorni dedicati al patrimonio gastronomico del parco che sarà direttamente raccontato dagli agricoltori e dai produttori. Ci saranno sette dialoghi intorno al cibo, itinerari esperienziali, laboratori, abbiamo istituito il premio Nibio Reale che andrà a premiare cittadini, associazioni, enti, scuole che si sono distinte nella valorizzazione e promozione del parco e anche presenteremo un bando molto importante con Arti Puglia, il bando Parco Innova, che vuole finanziare tutti quei progetti innovativi nell'ambito del monitoraggio della biodiversità, dell'economia circolare e anche della promozione turistica ed enogastronomica. Raggiungerci è semplice, siamo nella masseria Cimadomo, nel cuore del parco dell'Altamurgia, in agro di Corato. Il festival si svolgerà in tre giornate, dal 6 all'8 ottobre, soprattutto di pomeriggio. Siamo la seconda regione in Italia, apprezzata in Europa e in Italia per le azioni che ha svolto negli ultimi anni, di rilancio, di rivalutazione. Dobbiamo entrare molto più nelle scuole, quindi c'è un sistema culturale che deve muoversi all'unisono perché mangiare di qualità, mangiare cibo salutistico, fa bene alla salute, fa bene alle persone, fa bene alle nostre produzioni, alle nostre aziende che in questo hanno investito e su questo stiamo supportando un'azione sinergica che si muove con il territorio. Quindi produzioni, territorio e questo sviluppo che guarda a destagionalizzare perché dobbiamo mangiare tutti i giorni, vivere tutti i giorni il territorio con una sostenibilità, quella ambientale su cui non dobbiamo discutere più, va solo autorizzata e utilizzata appropriatamente, quotidianamente e soprattutto guardare anche alla sostenibilità economica delle aziende perché significa la vita dei lavoratori, delle imprese che devono trovare reddito e quindi siamo in fase cruciale anche della vita di questo sistema.